Bene ragazzi siamo qua, tornati con la reaction, oggi si gioca a Milan-Napoli Oggi partita importante, big match, oggi Milan-Napoli ragazzi, partita veramente difficile Siamo veramente in un periodo un po' strano, la partita scorsa in Napoli ha vinto per ben 2 a 1 con Quara E niente, speriamo di ripetere una partita del genere, perché stasera non è facile a San Siro Però prima di andare a reagire a questo primo tempo andiamo a vedere le formazioni ufficiali del Napoli Vediamo chi gioca, sono proprio curioso perché questa parte è importante, voglio dire proprio Mr. Mazzarri chi mette questa partita Allora per i Napoli gioca Collini, Juan Jesus, Rachmani, Ostigard, Mazzocchi, Zierischi, Lobotica, Anguissa, Di Lorenzo, Quara, Scheria e Simeone Questa è la formazione del Napoli, gioca a Zierischi, gioca a Anguissa, un periodo un po' strano per questi Però ragazzi, bisogna vincere, è una partita molto importante per il Napoli, non una partita semplice Speriamo di vincere ragazzi, facciamo questi 3 punti a Milano che servono veramente tanto Se li facciamo ragazzi, non sarà contento Dai, adesso iniziamo al primo tempo di Milan-Napoli, forza ragazzi Chiari, e ci siamo Ragazzi, iniziamo al primo tempo di Milan-Napoli Dai, dai Dai ragazzi, partita difficile però Facciamo giocando, eh, facciamo giocando Vai, vai Madono, Simeone Che ti ha mangiato Mannaggia, dai Simeone Cavolo Una bella azione, bravo Quara, come sei andato bene, eh Bravo Quara, bravo Quara Sei andato bene qua Dai, dai, dai Ma che fa? Ma che fa, Juan Jesus? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Juan Jesus non sta canno con Milano Non sta canno con Milano, il re pigliate Ma che? Facci via la porta, facci via così Svegliamosi No, no, no Lo fai? Ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? ma come è possibile? dai! lo fai sulla lista a chistinare ma come cavolo è possibile? dai ragazzi cioè il difensore non ha fatto segnare ma che non mi hai fatto in mano? frate! dai! ma la grinta dove cacchio è rimasta per favore non mi hai fatto in mano 1-0 1-0 ma per favore assurdo 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 mamma che quello mi ha chiappato ragazzi c'è qua il primo tempo ragazzi c'è qua il primo tempo 1-0 milano che dire Napoli molto molto strano ragazzi veramente calati siamo vedo Napoli senza grinta il Milan poche occasioni però ragazzi è sfrutta meglio di noi Napoli fa possesso crea qualcosa ma di poco non lo insegniamo questa è la differenza vabbè spero nel secondo tempo dobbiamo attaccare un po' di più ragazzi nel senso dobbiamo creare qualcosa in più perché qua stiamo giocando un po' male in difesa sembriamo che abbiamo paura subito puttiamo la palla in sopra in avanti e non va bene ragazzi devono essere un po' più concentrati in questa partita dobbiamo giocare un po' più niti e penso di mettere un altro attaccante mezzischi non mi sta piacendo in queste nuove zischi veramente bocciato bocciato zischi servirebbe la spadura simile una menza avanti e vabbè vediamo al secondo tempo come va ragazzi speriamo bene c'è una seconda ragazzi in quel secondo tempo tra Milano e Napoli speriamo di recuperare sto risultato dai è un po' complicato ragazzi come ho detto ma c'è una mappa io una golle tira guarda si mette mangiate però mamma ma ma come si fa ma come si fa ma chi sta mangiando tutti i tiri si mangia tutti i tiri che sta mangiando io sono il secondo prima di aver mangiato l'azione davanti alla porta e mo ma tira un po' meglio non c'è la porta neanche la porta mamma non ci rido veramente ci mangia la porta vi sta chiacca vai più concediamo tutto concediamo tutto che si è mangiato le au ragazzi che si è mangiato le au Romano non potete regalare sto e pallo e io mi su fam la terza quarta volta che sbagliamo dei passaggi che loro entrano entrano in aria come niente fosse vai giù guarda là le au e te le entrare sull'in aria vai giù perdiamo le palle che gliele regaliamo le azioni nuove noi ci facciamo le azioni a loro vai giù mamma mia che si sono mangiati questi oh cosa sta vado di Lorenzo ragazzi non ci stai prenotando i numeri in difesa però ma io svegliamoci ma che stiamo cambiando troppe cose troppe troppi guai un'a zero minuta ragazzi ci ha qua la partita la partita è veramente disastnata ragazzi disastnata mamma mia non so che dire volevamo fare molto molto di più ragazzi il Milan non è che ha fatto una partita eccezionale però mamma ragazzi abbiamo sbagliato delle cose incredibili noi abbiamo fatto peggio di loro abbiamo fatto peggio di loro vabbè non so veramente che pesci prendere ragazzi che dire che pesci prendere questo Napoli male male non ho fatto un'azione buona per fare un bull c'è stato sempre un'azione e basta vabbè ragazzi che dire questo video finisce qua mi dispiace perché potevamo fare ovviamente di più ragazzi cioè il Milan non ha creato i sacchi ha fatto quelle due o tre azioni massimo niente di che mi aspetta un Milan anche un po' più forte questa partita però la partita alla fine il Napoli non ha giocato al massimo niente ragazzi questo video finisce qua lasciatemi piacere iscriviti al canale vi facciamo un prossimo video pressione la reaction contro il Genoa una contro il Genoa niente ragazzi mi dispiace per i ragazzi ma non può mettere un attaccante solo davanti sembra la stessa cosa solo c'è mettere una spazzatura nel secondo tempo e poi si metterà nel primo tempo così mi era difficile vincere la partita vabbè ragazzi c'è un prossimo video peccato che me lo fa c'è un prossimo video grazie a tutti